Dichiaro chiusa la votazione. Mi sembra che il non passaggio sia approvato. Dichiaro sospesa la votazione. La controprova è stata richiesta, la controprova, chiudere le porte. Chi è favorevole a non passaggio agli articoli dichiaro aperta la votazione. Dichiaro aperta la votazione. Presenti 208. Votanti 207. Favorevoli 102. Contrari 105. Il Senato non approva. La controprova è stata richiesta. Quando lei ha detto vi sprongo la controprova, ha detto correttamente si chiudano le porte. Il momento che noi stiamo vivendo, legato all'estensione anche nelle tribune superiore, consente ai questori di verificare che queste tre porte d'ingresso siano chiuse, ma non che siano chiuse quelle del pacchetto del primo e secondo ordine. Era evidente a tutti che nelle tribune di primo livello le persone che adesso ci sono non c'erano e se voi applaudite perché vincete per tre voti dovreste nascondervi non nelle tribune. Grazie. 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 Grazie a tutti.